il segreto di padre brown capitolo 8 il grande lutto di marne il lampo illuminò i boschi cinerei dando risalto anche alla più piccola foglia cartocciata come se ogni dettaglio fosse disegnato e inciso nell'argento lo stesso strano gioco di luce che aveva illuminato in un baleno un'infinità di cose piccolissime metteva in evidenza ogni particolare di una scena in primo piano dagli eleganti pacchetti di un picnic all'aperto sparsi al riparo di un grande albero al pallido nastro della strada serpeggiante al termine della quale stava un'automobile bianca in attesa una villa lontana dall'aspetto triste con quattro torri come un castello che nel grigiore della sera era sembrata una massa confusa di mura simile a una nuvola frastagliata parve saltare in primo piano ed erergersi con i suoi tetti merlati e le sue finestre spalancate e vuote sembrava quasi che la luce del lampo l'avesse rivelata per qualcuno del gruppo sotto l'albero il castello era in realtà una cosa lontana nel tempo e quasi dimenticata che doveva però dimostrare la capacità di balzare ancora in primo piano nella loro vita la luce per un istante rivestì dello stesso splendore argenteo anche una figura umana che stava diritta immobile come una di quelle torri era un uomo di alta statura in piedi su un rialzamento del terreno mentre i suoi compagni per la maggior parte erano seduti sull'erba intenti a raccogliere il paniere e le stoviglie l'uomo indossava un pittoresco mantello corto una specie di cappa trattenuta da una catenella d'argento e da una fibbia che brillò come una stella quando il lampo l'investì qualcosa di metallico in quella figura immobile veniva messo in evidenza dal fatto che i suoi capelli ricci erano di un colore giallo brunito che poteva realmente ricordare l'oro sembrava più giovani di quello che dimostrava il suo volto che pure era bello per quanto duro e aquilino ma che appariva sotto la fosca luce un po rugoso e pallido probabilmente il costante uso del cerone l'aveva sciupato hugo romain era infatti il più grande attore del momento in quell'attimo di luce i riccioli d'oro la maschera d'avorio e gli ornamenti d'argento resero la sua figura scintillante come quella di un uomo in armatura l'istante successivo fu di nuovo un'oscura e nera silhouette contro lo sfondo del cielo grigio gonfio di pioggia ma c'era qualcosa in quella sua immobilità statuaria che lo distingueva dal gruppo di persone ai suoi piedi tutte le altre figure attorno a lui avevano il consueto involontario sussulto a quel lampo inaspettato poiché sebbene il cielo promettesse pioggia quello era il primo lampo del temporale l'unica signora presente la cui grazia orgogliosa nel portare la chioma grigia faceva sospettare la sua origine americana chiuse gli occhi ed emise un grido acuto suo marito il generale otram un flemmatico anglo indiano con la testa calva i baffi bianchi e le basette di foggia antiquata sollevò lo sguardo per un momento e poi tornò alla sua occupazione cioè a riordinare gli oggetti sparpagliati un giovane chiamato mallo molto grasso e timido dagli occhi bruni simili a quelli di un cane lasciò cadere una tazza e si scusò goffamente c'era un terzo uomo dagli abiti molto ricercati con un'espressione risoluta e inquisitoria come quella di un terrier sospetto e con i capelli grigi spazzolati all'indietro altri non era che il grande editore di giornali il signor john coxpur questi bestemmiò liberamente non alla moda inglese perché veniva da toronto in canada ma l'uomo alto in mantellina era rimasto ritto nel crepuscolo fermo come una statua il suo volto imperioso in piena luce era apparso simile a quello di un busto di imperatore romano e le sue palpebre di pietra non si erano mosse un momento dopo l'oscura volta del cielo fu squarciata dal tuono e la statua sembrò animarsi voltò la testa da un lato e disse pacatamente circa un minuto e mezzo tra lampo e tuono ma io penso che il temporale stia avvicinandosi suppongo che un albero non sia un buon ombrello per evitare i fulmini ma noi ne avremo comunque bisogno per ripararci dalla pioggia ci sarà un dirubio il giovane lanciò uno sguardo alla signora e disse preoccupato non possiamo ripararci in altro modo sembra che ci sia una casa laggiù c'è una casa osservò il generale piuttosto seccato ma non è di certo quella che voi chiamereste una casa ospitale è strano disse sua moglie tristemente che dobbiamo trovarci nel mezzo del temporale senza nessuna casa vicina tranne quella qualcosa nel tono della sua voce sembra colpire il ragazzo che era sensibile e pieno di comprensione ma non spaventò affatto l'uomo di toronto che cosa quella casa chiese sembra piuttosto abbandonata quella di mora disse generale tagliando corto appartiene al marchese di marne ahimè intervenne john coxpur so tutto su quell'individuo e che strano individuo l'anno scorso il comet lo ha presentato come l'uomo del mistero in prima pagina col titolo il nobile uomo che nessuno conosce anch'io ho sentito parlare di lui disse il giovane mallo a bassa voce sembra che circolino storie terribili sul perché si nasconda così ho sentito che porto una maschera perché è lebroso ma qualcuno mi ha detto anche molto seriamente che una sventura ha colpito la famiglia c'è un bambino nato con una terribile deformità che viene tenuto in una camera al buio il marchese di marne ha tre teste osservò romain molto gravemente ogni 300 anni un nobile uomo con tre teste adorna il suo albero genealogico nessun essere umano sarebbe avvicinare la casa maledetta a eccezione di una silenziosa processione di cappellai mandati per provvedere una normale numero di cappelli ma la sua voce assunse una di quelle profonde e terribili intonazioni che possono provocare tante emozioni in platea amici miei quei cappelli non sono di forma umana la signora americana lo guardò con un'espressione severa e una leggera aria di diffidenza come se quell'espediente della voce l'avesse commossa a suo dispetto non amo i vostri scherzi macabri disse e comunque preferirei che non scherzaste su questo argomento va bene obbedisco rispose l'attore ma anche a me è proibito come ai soldati chiedere la ragione di quest'ordine la ragione rispose lei è che lui non è il nobile uomo che nessuno conosce io lo conosco o almeno l'ho conosciuto molto bene quando era un diplomatico addetto all'ambasciata di Washington 30 anni fa quando noi tutti eravamo giovani e lui non portava la maschera o almeno non la portava davanti a me non è lebroso anche se vive in solitudine e ha soltanto una testa e un solo cuore che è stato spezzato un amore sfortunato certo disse coxpur mi piacerebbe saperne qualcosa per il comet suppongo sia un complimento per noi donne replicò la signora ottron pensierosa il fatto che diate per scontato che il cuore di un uomo si spezzi solo quando una donna lo lascia ma ci sono altri tipi di amore e altre perdite avete mai letto in memoriam avete mai sentito parlare di davide e gionata ciò che spezzò il cuore del povero signore di marne fu la morte del fratello si trattava in realtà del primo cugino ma era stato allevato con lui come fratello e gli era più vicino di moltissimi fratelli james mayer il marchese si chiamava così quando lo conobbi era il più anziano dei due ed era sempre in adorazione di morris mayer come se questi fosse un dio e dal canto suo morris era certamente un prodigio james non era sciocco ed era molto bravo nel suo lavoro diplomatico ma sembrava che morris potesse fare quella e qualunque altra cosa era un brillante artista un attore dilettante un musicista e non solo james aveva un bel portamento alto robusto ed energico con il naso arcuato anche se credo che i giovani di oggi penserebbero che egli avesse un aspetto molto strano con quella sua barba divisa in due e le basette alla moda del tempo vittoriano morris era sbarbato e a giudicare dai ritratti che mi mostrano era certamente molto bello sebbene avesse più l'aspetto di un tenore che quello di un gentiluomo james mi domandava continuamente se non pensassi anch'io che il suo amico fosse una meraviglia se ogni donna non si sarebbe innamorata di lui e così via fino a diventare seccante poi all'improvviso accadde la tragedia sembrava che la sua intera vita poggiasse su quell'idolatria e un giorno l'idolo crollò e si spezzò come una bambola di porcellana un colpo di freddo al mare e tutto finì e dopo chiese il giovane si chiuse definitivamente in se stesso come ora prima andò all'estero rispose lei in asia nelle isole dei cannibali e dio sa dove questi colpi mortali agiscono in modo diverso in diverse persone fu preso dal desiderio di una separazione completa da ogni cosa anche dalla tradizione e nei limiti del possibile anche dalla memoria non poté più supportare nessun riferimento al vecchio legame né un ritratto né un aneddoto né un ricordo per associazione di idee non poté sopportare nemmeno di dover assistere al funerale voleva solo andarsene via e rimase lontano per dieci anni credevo avesse ricominciato a vivere un po alla fine dell'esilio ma quando ritorno a casa ebbe una ricaduta decisiva si fissò in una lugubre malinconia religiosa che è praticamente una forma di pazzia si dice che i preti ottengano da lui molti aiuti borbottò il vecchio generale so che ha dato molto denaro per fondare un monastero e che vive come un monaco o ad ogni modo come un eremita non comprendo quale beneficio pensino di trarre da questo maledetta superstizione sbuffò coxpur cose di questo genere dovrebbero essere smascherate c'è qui un uomo che avrebbe potuto essere utile all'impero e al mondo e questi vampiri lo spremono fino all'osso scommetto che con le loro idee contro natura non lo hanno nemmeno lasciato sposare no non si è mai sposato disse la signora quando lo conobbi era fidanzato e non credo che lo fosse mai stato prima ma il fidanzamento se n'è andato con il resto quando se ne andò ogni altra cosa come amleto e ofelia divenne incapace di amare perché era diventato incapace di vivere io conoscevo la ragazza anzi la conosco ancora in confidenza è viola grayson la figlia di un vecchio ammiraglio non ha mai preso marito è infame è infernale gridò sir john saltando su non è soltanto una tragedia ma un crimine ho un dovere verso il pubblico intendo vedere chiaro in quest'incubo assurdo nel ventesimo secolo rimase quasi soffocato dalla propria impetuosità e poi dopo un breve silenzio il vecchio soldato disse beh non pretendo di sapere molto in merito a queste cose ma penso che la gente religiosa avrebbe bisogno di studiare un testo che dice lasciate che i morti seppelliscano i loro morti solo che sfortunatamente questo è proprio quello che sembra disse sua moglie con un sospiro è proprio come la storia raccapricciante di un morto che seppellisce un altro morto un'infinità di volte per l'eternità il temporale è passato sopra di noi disse romaine con un sorriso davvero indecifrabile dopo tutto non dovrete visitare la casa in ospitale la signora improvvisamente la brividi no non lo farei mai più gridò ma lo la cordo fisso mai più allora avete già provato esclamò l'ho fatto una volta rispose con una leggerezza che non mancava però di un po di orgoglio ma non abbiamo bisogno di ritornare su queste cose non piove e penso che sarebbe meglio incamminarci verso l'automobile si mossero in fila mello e il generale si ritrovarono per ultimi e questi disse bruscamente abbassando la voce non voglio che quel piccolo provinciale di cox pur senta ma siccome avete fatto una domanda credo sia meglio che siate informato c'è una cosa che non posso perdonare al signor marne ma suppongo che siano stati i monaci a suggerirgliela mia moglie che è stata la migliore amica che egli abbia avuto è andata per davvero in quella casa e lo ha trovato che stava passeggiando in giardino guardava per terra come un monaco col volto nascosto in un cappuccio nero ridicolo come qualsiasi maschera lei gli aveva fatto portare il suo biglietto da visita e stava in attesa proprio sul sentiero sul quale lui camminava lui è passato oltre senza dire una parola e degnarla di uno sguardo come fosse stata una pietra non era un essere umano era come un orribile automa lei ha ragione a dire che era un uomo morto tutto questo è molto strano disse il giovanotto piuttosto vagamente non è come come mi sarei aspettato il giovane mallo quando lasciò questa deprimente merenda all'aperto si mise pensosamente alla ricerca di un amico non conosceva nessun monaco ma conosceva un prete e desiderava proprio raccontargli le curiose rivelazioni che aveva sentito quel pomeriggio sentivo un desiderio fortissimo di scoprire il segreto di quella superstizione sospesa sopra la casa di marne come la nube temporalesca che vi aveva visto sopra dopo averlo cercato da un posto all'altro finalmente scovò l'amico padre brown nella casa di un altro amico un cattolico che aveva una numerosa famiglia entrò piuttosto bruscamente e vide padre brown seduto sul pavimento che con un'espressione seria stava tentando di mettere il cappello di una bambola di cera sulla testa di un orsacchiotto mallo provava un leggero senso di disagio ma era troppo pressato dal suo problema per rimandare la conversazione in un altro momento ondeggiava in una specie di pausa in un processo inconscio che lo assillava da qualche tempo espose tutta la tragedia della casa di marne per come l'aveva sentita dalla moglie del generale completata dai commenti del generale stesso e del proprietario del giornale sembrò che l'attenzione si facesse viva appena venne menzionato il proprietario del giornale padre brown non sapeva né si curava del fatto che il suo atteggiamento fosse comico o banale continuò a star seduto sul pavimento dove la grossa testa e le gambe corte lo facevano somigliare a un bambino che si diverte con i suoi giocattoli c'era però nei suoi grandi occhi grigi una certa espressione che era stata vista negli occhi di molti uomini in 19 secoli di storia soltanto che questi uomini non stavano generalmente seduti sul pavimento ma ai tavoli di consiglio o sui seggi di collegio o sui troni dei vescovi e dei cardinali era come uno sguardo lontano e vigile consapevole di una responsabilità troppo pesante per un uomo quell'ansioso inafferrabile sguardo si trova negli occhi dei marinai e di quelli che hanno governato attraverso molte tempeste la barca di San Pietro avete fatto bene a dirmi tutto questo disse vi sono molto grato perché noi abbiamo qualcosa a che fare con questa vicenda se ci fossero soltanto persone come voi e il generale questa potrebbe essere una faccenda privata ma se Sir Coxpur sta per soffiare sulle braci dello scandalo con i suoi giornali beh, quello è un violento e protestante di Toronto e ci è quasi impossibile non occuparci della faccenda ma cosa dite su questa questione, chiese Mello o Manzioso? la prima cosa che dovrei dire, rispose padre Brown è che sono d'accordo questo non è il modo di comportarsi nella vita supponete per amor di discussione che noi fossimo tutti dei vampiri che esercitassimo una maligna influenza sulla felicità umana supponete che io sia un pessimista e un vampiro e così dicendo si gratto il naso con l'orzacchiotto pian piano prese coscienza dell'incongruità del suo gesto e depose il giocattolo supponete che noi distruggessimo tutti i legami umani e familiari perché dovremmo di nuovo legare un uomo a un vecchio vincolo familiare proprio quando mostra di volersene sciogliere è sicuramente disonesto accusarci sia di distruggere tale affetto sia di incoraggiare tale esaltazione non vedo perché mai una mania religiosa dovrebbe provocare quella particolare specie di monomania e perché la religione dovrebbe accrescerla se non per illuminarla con un po' di speranza poi dopo una pausa continuò mi piacerebbe parlare a questo vostro generale è stata sua moglie a informarmi disse Mallow sì, replicò l'altro ma a me interessa di più quello che lui non vi ha detto che quello che vi ha detto voi pensate che ne sappia più di lei? penso che sappia più di quanto lei dice rispose padre Brown mi avete detto che ha usato una frase riguardo al perdono di ogni cosa a eccezione dello sgarbo fatto a sua moglie dopo tutto cosa c'era da perdonare? padre Brown si alzò scosse i suoi abiti spiegazzati e stette a guardare il giovane con gli occhi socchiusi e con un'espressione strana e assente un momento dopo si voltò e dopo aver preso il suo ombrello sformato e il largo cappello logoro uscì in strada camminò lentamente attraverso larghe strade e piazze fino a quando arrivò a una bella casa di vecchio stile nel West End e chiese al servo se fosse possibile vedere il generale Oltram fu introdotto dopo una breve attesa in uno studio meno fornito di libri che di mappe di globi dove il calvo e baffuto anglo-indiano sedeva fumando un sigaro lungo sottile e nero e si divertiva a piantare spilli su una carta sono spiacente di importunarvi disse il prete soprattutto perché non posso evitare che la mia intrusione vi sembri un'interferenza in un affare privato desidero parlarvi di una faccenda privata ma solo nella speranza di mantenerla tale sfortunatamente alcune persone preferiscono renderla pubblica penso generale che voi conosciate Jack Coxpool l'insieme dei baffi neri e delle basette formava come una specie di maschera per la metà inferiore della faccia del generale ciò rendeva difficile vedere se sorrideva ma i suoi occhi avevano spesso un certo scintillio suppongo che lo conoscano tutti disse io non lo conosco molto bene beh sapete che tutti conoscono ciò che lui conosce disse padre Brown sorridendo quando crede che sia opportuno pubblicarlo e ho appreso dal mio amico Mallo che voi sapete, credo, che sta per stampare sul giornale alcuni pungenti articoli anticlericali basati su ciò che chiama il mistero di Marne monaci portano il marchese alla pazzia e cose del genere se è per questo, replicò il generale non vedo perché veniate da me dovrei dirvi che sono un convinto protestante voglio molto bene gli ardenti e i convinti protestanti disse padre Brown vengo da voi perché sono sicuro che mi direte la verità spero che il sentirsi meno sicuri di John Coxpour non sia mancanza di carità gli occhi bruni scintillarono ancora ma il generale non disse parola generale, disse padre Brown supponete che Coxpour o uno della sua specie stia per far girare il mondo delle storielle contro il vostro paese e la vostra bandiera supponete che racconti che il vostro reggimento è scappato durante la battaglia o che il vostro stato maggiore era al soldo del nemico permettereste che si propagassero queste notizie senza confutarle? non vorreste che tutti potessero conoscere la verità? bene, io ho un reggimento e appartengo a un'armata che sta per essere screditata da ciò che sono certo essere una falsa storia ma non conosco la vera storia potete rimproverarmi perché sto cercando di conoscerla? il soldato rimase silenzioso e il prete continuò ho sentito la storia raccontata a Mello sull'esilio del marchese di Marne col cuore spezzato dopo la morte di quello che per lui era più che un fratello sono sicuro che c'è dell'altro oltre a quello che è stato detto sono venuto a chiedervi se voi conoscete qualcosa di più no, disse subito il generale non posso dirvi di più generale, disse padre Brown voi mi avreste chiamato gesuita se io avessi giocato con le parole il generale rise in modo severo poi borbottò con molta ostilità beh, allora diciamo che non voglio dirvelo, replicò cosa mi rispondete? dico soltanto, rispose il prete con dolcezza che in questo caso sarò io a raccontarvi qualcosa gli occhi bruni lo fissarono ma ora in essi non c'era nessun scintillio padre Brown continuò mi costringete a fare la mia esposizione meno semplicemente di quanto avreste potuto fare voi dato che è evidente che c'è dell'altro e che voi sapete sono del tutto certo che il marchese abbia un motivo migliore della perdita di un vecchio amico per la sua silenziosa meditazione e per la sua segregazione dubito che i preti abbiano a che fare con questo non so neppure se è convertito soltanto un uomo che tenta di confortare la sua coscienza con l'elemosine ma sono sicuro che è qualcosa di più di uno che piange per un morto siccome insistete nel silenzio vi dirò qualcosa che mi ha indotto a pensare così primo è stato stabilito che James Mayer si era fidanzato ma non so come questo legame fu sciolto dopo la morte di Maurice Mayer perché un uomo d'onore dovrebbe rompere il suo fidanzamento solo perché si sente depresso per la morte di un terzo sarebbe stato molto più logico se si fosse rifugiato in quel rapporto per consolarsi e comunque essendo ormai legato un uomo d'onore avrebbe dovuto continuare il fidanzamento il generale si stava mordendo i baffi neri i suoi occhi bruni erano diventati molto attenti ma anche molto ansiosi tuttavia non rispose secondo punto disse padre Brown guardando accigliato il tavolo James Mayer domandava sempre alla sua amica se il cugino Maurice fosse molto affascinante e se le donne non avrebbero potuto fare a meno di ammirarlo non so se è venuto in mente alla signora che ci potesse essere un'altra intenzione in quella domanda il generale si alzò e iniziò a passeggiare rumorosamente per la stanza oh maledetta faccenda disse senza nessun'ombra di animosità il terzo punto continuò padre Brown è la strana condotta di James Mayer che distrusse tutti i ricordi e nascose tutti i ritratti e così via qualche volta capita lo ammetto e potrebbe dimostrare quale profondo attaccamento avesse alla cosa voi mi sconcertate disse l'altro da quanto state raccogliendo tutti questi elementi il quarto e il quinto punto sono abbastanza conclusivi rispose il prete con calma specialmente se li considerate insieme il primo è che Maurice Mayer sembra non abbia avuto un funerale degno del cadetto di una grande famiglia deve essere stato seppellito in fretta forse in segreto e l'ultimo punto è che James Mayer sparì subito fuggendo all'estero fuggì infatti nelle parti più remote della terra e così continuò con la stessa voce calma quando voi diffamate la mia religione per illuminare la storia del rapporto puro e perfetto dei due fratelli pare basta basta! gridò Ottram con un tono che sembrava un colpo di pistola devo darvi delle spiegazioni o voi immaginerete di peggio lasciatemi però mettere in chiaro questo è stato un leale combattimento ah! fece padre Brown e tirò un grande sospiro fu un duello! continuò l'altro fu probabilmente l'ultimo duello combattuto in Inghilterra e da allora è passato molto tempo così va meglio disse padre Brown grazie a Dio così va meglio meglio delle brutte cose che pensate voi suppongo disse il generale con un tono burbero per voi va benissimo prendere in giro un rapporto puro e perfetto ma esisteva veramente James Mayer era davvero devoto a suo cugino che era cresciuto con lui come un fratello minore i fratelli e le sorelle maggiori qualche volta si dedicano completamente a un bambino in questo modo in particolare quando parliamo di una specie di bambino prodigio ma James Mayer era uno di quei caratteri semplici nei quali anche l'odio è in un certo senso generoso intendo dire che anche quando la sua tenerezza divenne furia fu sempre obiettiva diretta all'estremo verso il suo oggetto lui non se ne compiaceva ora il povero Morris Mayer era proprio l'opposto era molto più socievole e popolare ma i suoi successi lo avevano fatto vivere come davanti a uno specchio era sempre il primo di ogni sport in tutto quello che faceva vinceva quasi sempre e prendeva le sue vittorie con simpatia ma se mai per sfortuna perdeva si notava in lui una sfumatura che non era per nulla gradevole era un po' geloso non occorre che vi racconti l'intera meschina storia di quanto fosse geloso del finanziamento di suo cugino e come non potesse trattenere la sua inquieta vanità di interferire anche in quello è sufficiente che vi dica che una delle poche cose nelle quali James era assolutamente superiore a lui era la pistola essendo un tiratore esperto e con quella la tragedia finì intendete dire che la tragedia cominciò replicò il prete la tragedia del sopravvissuto direi che non è necessario nessun monaco vampiro per fare di lui un infelice a mio modo di vedere è più infelice di quanto sia necessario disse il generale dopo tutto dico fu un'orrenda tragedia ma fu un duello leale e James era stato gravemente provocato come sapete tutto questo? domandò il prete lo so perché lo vidi rispose Oltram con voce opaca io fu il padrino di James Mayer e vidi Morris Mayer colpito a morte sulla spiaggia sotto i miei occhi vorrei che mi dicesse qualcosa in più disse padre Brown riflettendo chi era il padrino di Morris Mayer? un padrino molto distinto replicò il generale con sarcasmo Hugo Romain il geniale attore che voi conoscete Morris andava pazzo per la recitazione aveva impegnato Romain che era allora un uomo che lottava per affermarsi e lo finanziava perché in cambio gli desse delle lezioni per soddisfare la sua passione di attore dilettante ma Romain allora era suppongo completamente alle dipendenze del suo ricco amico sebbene sia ormai più ricco di ogni aristocratico e il fatto che gli fece da padrino prova molto poco di quello che pensasse della lite combatterono alla moda inglese e cioè con un solo padrino ciascuno io desideravo almeno che ci fosse un chirurgo ma Morris rifiutò con forza dicendo che era meglio che poca gente venisse a conoscenza della cosa e che nel peggiore dei casi potevamo chiamarlo immediatamente c'è un dottore al villaggio a mezzo miglio da qui disse lo conosco e ha il più veloce cavallo del paese può essere qui in un attimo ma è inutile farlo venire fino a quando non ce ne sarà necessità beh noi tutti sapevamo che Morris correva il maggior rischio perché la pistola non era la sua arma e per questo quando rifiutò l'aiuto nessuno volle insistere il duello fu combattuto su una striscia piana di sabbia a est della costa della Scozia e la vista e il rumore furono mascherati ai piccoli villaggi interni da un lungo bastione di colline di sabbia come quelle chiazze di ginestre quel tipo di terreno adatto per il golf sebbene a quei tempi nessun inglese aveva ancora sentito parlare di quel gioco c'era una profonda fessura sinuosa nelle colline attraverso la quale si giungeva alla spiaggia mi pare di vedere ancora prima una larga striscia di giallo sbiadito poi più in là una striscia più stretta di rosso scuro che sembrava già simile alla lunga ombra di un fatto di sangue tutto accadde con un'orribile velocità come se un turbine di vento avesse percorso la sabbia nel momento in cui si sentì la detonazione Morris Mayer sembrò girare su se stesso come una trottola e si abbattì a faccia a terra con un birillo e cosa strana mentre ero stato fino a quel momento tormentato per lui nell'istante in cui morì tutta la mia pietà fu per l'uomo che lo aveva ucciso come lo è tuttora sapevo che con questo il pendolo enorme e terribile della vita e dell'amore del mio amico avrebbe oscillato indietro e che anche se gli altri lo avessero potuto perdonare lui non si sarebbe perdonato per l'eternità e così ciò che è rimasto di vivido e di reale la visione che arde nella mia memoria tanto che non posso dimenticarla non è quella della catastrofe del fumo e del lampo della figura che cade quello sembrò fare da sfondo come il rumore che sveglia un uomo ciò che invece vedo quello che vedrò sempre è il povero James che corre verso il suo amico e avversario caduto la sua barba bruna che appariva nera nel pallore spettrale del suo volto il suo profilo che spiccava contro il mare e i gesti frenetici con i quali mi faceva segno di correre a cercare il chirurgo nel villaggio dietro le colline mentre correva aveva lasciato cadere la pistola aveva un guanto in mano e le sue dita tremanti sembravano prolungare e mettere in rilievo la sua violenta pantomima le grida e i gesti con cui chiedeva aiuto ecco il quadro che è rimasto nella memoria nient'alto tranne lo sfondo striato della sabbia del mare il corpo morto immobile come una pietra e la nera figura del padrino del morto dritta immobile e sinistra contro l'orizzonte Romain stava dritto immobile domandò il prete avrei pensato che anche lui sarebbe corso velocemente verso il cadavere forse lo fece dopo che io ero partito replicò il generale colse in un attimo l'incancellabile impressione di quel quadro perché l'istante successivo ero già oltre le colline ed ero lontano dalla vista degli altri il povero Morris aveva fatto una buona scelta in fatto di dottori anche se era stato chiamato troppo tardi il dottore arrivò prima di quanto credevo possibile il chirurgo del villaggio era un uomo notevole rosso di capelli irascibile ma straordinariamente forte svelto e pronto di mente lo vidi saltare in un lampo sul suo cavallo e partire velocemente verso la scena di morte lasciandomi molto indietro in quell'attimo però ebbi un'impressione così forte della sua personalità che avrei desiderato fosse stato chiamato prima che il duello cominciasse perché credo lo giuro sulla mia anima lo giuro sulla mia anima che avrebbe saputo in qualche modo impedirlo appena arrivato sistemò la faccenda con meravigliosa rapidità ancora prima che io potesse ritornare a piedi sulla spiaggia con la sua grande pratica e col suo impeto aveva messo in ordine ogni cosa il cadavere era stato seppellito provvisoriamente nelle colline e l'infelice omicida si era persuaso a fare la sola cosa che potesse fare fuggire per aver salvato la vita si diresse furtivamente lungo la costa finché giunse in un posto dalla quale riuscì a lasciare il paese voi conoscete il resto il povero James rimase all'estero per molti anni più tardi quando tutto era stato messo a tacere o dimenticato tornò al suo triste castello e quindi ereditò il titolo non l'ho mai visto da quel giorno ma già so che cosa vi sia scritto in lettere rosse nella più segreta e buia stanza della sua mente mi pare di capire disse padre Brown che qualcuno di voi avrà fatto dei tentativi per vederlo mia moglie non smise mai di farne disse il generale lei si rifiuta di ammettere che un crimine del genere debba distruggere un uomo per sempre e io confesso che sono incline ad essere d'accordo con lei 80 anni fa questa cosa sarebbe stata ritenuta normale in effetti in questo caso si tratta di omicidio non premeditato piuttosto che di assassini mia moglie è grande amica della sfortunata signora che fu la causa della lite pensa che se James vedesse Viola Grayson ancora una volta e ricevesse l'assicurazione che tutto è stato sepolto questo potrebbe farlo tornare alla normalità mia moglie credo riunirà domani una specie di consiglio di vecchi amici è una donna molto energica padre Brown stava giocando con degli spilli posti accanto alla mappa e sembrava ascoltare piuttosto distrattamente era una di quelle persone alla cui mente un'idea si presenta come una serie di quadri e il quadro che aveva saputo colorire anche la mente prosaica del soldato prevedeva una tinta ancora più significativa e sinistra nella mente mistica del prete vedeva l'oscura desolazione della sabbia l'uomo morto che giaceva come una macchia scura e l'uccisore curvo nella corsa che agitava un guanto impazzito per rimorso l'immaginazione tornava sempre al terzo personaggio che nel quadro sembrava indifferente a ogni passione umana al padrino del morto che stava immobile e misterioso come un'oscura statua sulla sponda del mare questo potrebbe sembrare a qualcuno un dettaglio senza importanza ma per il prete con la figura rigida era come un punto interrogativo perché Romain non si era mosso subito era la sola azione che per umanità anche trascurando l'amicizia un padrino avrebbe dovuto fare anche se ci fosse stato un contegno sleale o qualche più strano motivo non ancora chiaro avrebbe dovuto comportarsi così per salvare le apparenze a ogni modo quando il fatto era avvenuto sarebbe stato naturale per un padrino muoversi prima che l'altro padrino avesse il tempo di sparire oltre le colline Romain è forse lento nei movimenti chiese rispose Otram con uno sguardo assorto no, in verità si muove molto rapidamente quando si muove è molto curioso però perché in questo momento stavo proprio pensando che questo pomeriggio durante il temporale l'ho visto nello stesso atteggiamento di quella volta stava in quella sua mantellina col fermaglio d'argento e con una mano sull'anca esattamente come su quella spiaggia insanguinata tanto tempo fa il lampo ci ha abbagliato tutti ma lui non ha battuto ciglio quando il lampo si è spento era ancora lì immobile non sarà ancora là suppongo disse padre Brown e immagino che a un certo punto si sia mosso no, rispose l'altro si è mosso esattamente quando è arrivato il tuono sembrava che fosse stato lì ad aspettarlo perché ci ha detto esattamente la durata dell'intervallo tra lampo e tuono c'è qualche problema? mi sono punto con uno dei vostri spilli disse padre Brown spero di non averlo sciupato ma c'era stata una scintilla nei suoi occhi e le sue labbra si erano serrate vi sentite male? chiese il generale guardandolo fisso no, rispose il prete soltanto non sono così stoico come il vostro amico Romain non posso fare a meno di battere le palpebre quando vedo la luce si voltò per raccogliere il cappello e l'ombrello ma quando giunse alla porta parve ricordarsi di qualcosa e tornò indietro avvicinandosi a Othram lo fissò in viso con un'espressione piuttosto vuota come quella di un pesce morto e fece un movimento come se volesse prenderlo per il panciotto generale disse quasi in un sussurro per amor di Dio non lasciate che vostra moglie e le altre signore insistano ancora per vedere il marchese di Marne non svegliate i cani che dormono o sguinzaglierete tutti i cani dell'inferno il generale rimase solo e i suoi occhi bruni si riempirono di una grande perplessità mentre si rimetteva a sedere e riprendeva il gioco con gli spirghi ancora più grande comunque fu lo smarrimento che si creò nelle fasi successive della benevola cospirazione ordita dalla moglie del generale che aveva raccolto il piccolo gruppo di simpatizzanti per assaltare il castello del misantropo la prima sorpresa fu l'inspiegabile assenza di uno degli attori dell'antica tragedia quando si riunirono secondo gli accordi in un tranquillo albergo vicino al castello non c'era traccia di Hugo Romain fino a quando un tardivo telegramma proveniente da un avvocato li informò che aveva improvvisamente lasciato il paese la seconda sorpresa arrivò quando iniziarono l'offensiva mandando al castello la richiesta di un incontro urgente e fu la strana figura che uscì da quegli oscuri cancelli per ricevere la delegazione in nome del nobile proprietario non era certo la figura che ritenevano la più adatta a quei tetri viali o quell'etichetta quasi feudale non fu un maestoso imponente amministratore neppure un austero maggiordomo o un altro dignitoso servitore in livrea la sola figura che apparve nel vano della porta del tenebroso castello fu quella tozza e meschina di padre Brown sentite disse in modo seccato vi avevo detto che sarebbe stato molto meglio lasciarlo solo lui sa quello che sta facendo e non renderà nessuno infelice la signora Ottman che era accompagnata da un'altra signora vestita con discrezione e ancora di bel aspetto presumibilmente la signorina Grayson guardò il piccolo prete con freddo disprezzo veramente signore disse questa è una questione privata io non capisco perché vi dovrebbe riguardare ci si può proprio fidare di un prete in una faccenda privata disse John Coxpour non sapete che vivono dietro le scene come i topi dietro la tappezzeria scavandosi la loro via per giungere alle stanze private di ognuno guardate come è già entrato in possesso del povero Marchese di Marne il signor John era piuttosto di cattivo umore perché i suoi aristocratici amici lo avevano convinto a rinunciare a un grande lancio pubblicitario in cambio del privilegio di essere messo a conoscenza di un vero segreto della nobiltà tuttavia non gli era mai venuto in mente di chiedersi se per caso non fosse lui stesso simile a un topo dietro la tappezzeria oh non per quello disse padre Brown con ansiosa impazienza ho parlato con il Marchese di questo argomento e con il solo prete col quale egli abbia avuto a che fare le sue simpatie clericali sono state di molto sovrastimate vi dico che sa cosa sta facendo e imploro voi tutti di lasciarlo in pace intendete piuttosto che dovremmo abbandonarlo a questa morte vivente del lutto e alla follia tra queste rovine esclamò la signora Ottman con voce vibrante è tutto perché ha avuto la sfortuna di uccidere un uomo in un duello più di un quarto di secolo fa e questa voi la chiamate carità cristiana sì rispose il prete con calma questo è quello che noi chiamiamo carità cristiana ecco tutta la carità cristiana che potete tirar fuori da questi preti affermò Cox pur con amarezza e il loro solo modo di perdonare un povero individuo per un po' di follia murarlo vivo e affamarlo a morte con digiuni penitenze e visioni del fuoco infernale e tutto ciò perché una pallottola ha preso una strada sbagliata veramente padre Brown chiese generale Ottman voi pensate di meritare tutto ciò che sta dicendo è questo il vostro cristianesimo in realtà il vero cristianesimo aggiunse a difesa sua moglie con più gentilezza è quello che conosce tutto e tutto perdona è l'amore che può ricordare e dimenticare padre Brown disse il giovane Mallo molto erenicicamente di solito sono d'accordo con quanto dite ma che sia impiccato se questa volta posso seguirvi uno sparo in duello subito uno sparo in duello seguito subito dal rimorso non è poi un diritto così terribile ammetto disse padre Brown con lentezza che giudico un po' più seriamente il suo diritto che Dio raddolcisca il vostro cuore disse la strana signora parlando per la prima volta io vado a parlare con il mio vecchio amico quasi che la sua voce avesse risvegliato uno spirito in quella grande casa grigia qualcosa si agitò al suo interno e una figura si presentò nell'oscuro vano del portone in cima alla gradinata era vestita a lutto ma c'era qualcosa di selvaggio nel biancore dei capelli e nel pallore dei lineamenti che lo faceva apparire come una statua di marmo in rovina Viola Grayson iniziò a salire con calma la lunga fila di gradini e Othman borbottò tra i neri baffi non vorrà rifiutarsi di riconoscerla come ha fatto con mia moglie immagino padre brown che sembrava ormai scoraggiato e rassegnato guardò la figura per un momento poveretto ne ha abbastanza sulla coscienza disse assolviamola almeno per quanto ci è possibile per lo meno non ha mai finto di ignorare vostra moglie cosa intendete dire che non l'ha mai conosciuta disse padre brown mentre parlavano l'altra signora salì orgogliosamente in l'ultimo gradino e si trovò faccia a faccia col marchese di marne le sue labbra si mossero ma prima che potesse parlare accadde qualcosa un grido attraversò lo spazio aperto e andò perdendosi come un eco lamentosa lungo quei muri pupi per l'immediatezza e per l'angoscia con la quale progruppe dalle labbra della donna sembrò un semplice grido inarticolato ma era una parola e tutti la udirono molto distintamente moris cosa c'è cara gridò la signora ottman e cominciò a salire in fretta i gradini perché l'altra donna stava oscillando come se stesse per precipitare giù dall'alta scalinata viola grayson si voltò e cominciò a scendere tutta curva contratta inorridita oh mio dio disse oh mio dio non è affatto james è moris penso signora ottman disse il prete gravemente che sarebbe meglio che voi andasse con la vostra amica come quelle si voltarono una voce scese come una pietra dall'alto della gradinata una voce che pareva uscire da una tomba una voce rauca e non naturale simile a quella degli uomini che sono lasciati soli come uccelli selvaggi in isole deserte era la voce del marchese di marme fermi padre brown prima che i vostri amici si allontanino vi autorizzo a dir loro tutto quello che vi ho detto qualsiasi siano le conseguenze non voglio più fuggire avete ragione disse il prete e di ciò vi sarà reso merito sì raccontava più tardi padre brown con calma i suoi compagni che lo interrogavano mi ha permesso di parlare ma non vi dirò quello che lui mi ha detto bensì quello che io stesso ho scoperto bene prima di tutto sapevo che la maligna influenza dei monaci era una cosa senza senso la nostra gente può in certi casi incoraggiare un uomo a rinchiudersi in un monastero ma non a segregarsi in un castello medievale e per la stessa ragione essi non lo avrebbero spinto a vestirsi da monaco quando non lo era affatto mi venne l'idea che forse lui stesso desiderava portare un cappuccio da monaco e magari anche una maschera avevo sentito parlare di lui come di un uomo in lutto e anche come di un assassino ma già avevo avuto vaghi sospetti che la ragione di nascondersi potesse essere legata non a ciò che egli era ma a chi egli era poi è arrivata la chiara descrizione del duello fatta dal generale e la cosa più vivida che mi ha colpito era la figura del signor Romain sullo sfondo era vivida appunto perché era sullo sfondo perché mentre il generale lasciava sulla sabbia un uomo morto colui che gli era stato amico se ne stava lontano da lui come un blocco di legno o di pietra ho scoperto poi un'altra cosa una semplice inezia e cioè che la particolare caratteristica che Romain ha di mantenersi assolutamente calmo quando sta aspettando qualcosa che deve accadere così come ha atteso il tuono che segue il lampo è stata quell'abitudine che in quel caso ha svelato tutto Hugo Romain anche in quel giorno lontano stava aspettando qualche cosa ma era tutto finito disse il generale che cosa avrebbe dovuto aspettare stava aspettando il duello disse padre Brown ma ve l'ho già detto che avevo visto il duello esclamò il generale e io vi dico che voi il duello non l'avete visto disse il prete siete pazzo domando l'altro o pensate che io sia cieco è perché eravate accecato che non avete potuto vedere disse il prete perché voi siete un uomo buono e Dio ha avuto misericordia della vostra innocenza e vi ha fatto voltare il viso impedendovi di vedere la contesa disumana ha messo un muro di sabbia tra voi e quello che davvero accadeva su quell'orribile spiaggia rossa abbandonata agli infuriati spiriti di Giuda e Caino diteci che cosa succede disse la signora Ottman con affannosa impazienza vi dirò come ho scoperto la verità continuò il prete un'altra cosa che ho scoperto è che l'attore Romain aveva insegnato a Maurice Mayer tutte le astuzie della professione dell'attore una volta avevo un amico che prese come scopo della vita la recitazione mi fece una divertentissima descrizione di come per l'intera prima settimana l'insegnamento consistesse esclusivamente nell'apprendere il modo di cadere cadere cioè disteso senza barcollare come se si fosse morti stecchiti Dio abbia pietà di noi esclamò il generale afferrando i braccioli della sedia come per alzarsi Amen disse padre Brown voi mi avete detto come tutto sembrò svolgersi in un lampo infatti Maurice cadde prima che la pallottola lo raggiunse e rimase perfettamente immobile aspettando e anche il suo malvagio amico e maestro stava aspettando sullo sfondo anche noi stiamo aspettando disse Coxpure e io sento che non posso più aspettare James Mayer già affranto dal rimorso si precipitò verso il caduto e si piegò su di lui per sollevarlo aveva gettato via la sua pistola come una cosa immonda ma quella di Morris era ancora carica sotto la sua mano e quando l'uomo più anziano si piegò su più giovane quest'ultimo si sollevò sul braccio sinistro e sparò sul primo a bruciapelo sapeva di non essere un buon tiratore ma non era possibile non colpire il cuore a quella distanza tutti si erano alzati e stavano fissando il narratore con volto pallido siete sicuro di questo chiese alla fine Sir John con voce strozzata lo sono rispose padre Brown e ora lascio Morris Mayer l'attuale Marchesi Marn alla vostra carità cristiana mi pareva che voi deste a essa un'eccessiva importanza ma quale fortuna per un peccatore come questo che siete disposti a tanta misericordia e pronti a riconciliarvi con tutto il genere umano che possa essere impiccato esplose il generale se pensate che possa riconciliarmi con una vipera ripugnante come quella vi dico che non direi mai una parola per salvarlo dall'inferno potevo perdonare un regolare duello ma non un vilassassinio dovrebbe essere linciato esclamò Cox pure eccitato dovrebbe essere bruciato vivo come un negro degli Stati Uniti e se esistesse qualcosa come il fuoco eterno gli andrebbe bene non vorrei toccarlo nemmeno con le molle disse Mallor c'è un limite alla carità umana aggiunse la signora Ottman in un fremito c'è infatti disse padre Brown seccamente e questa è la vera la differenza tra la carità umana e la carità cristiana voi dovete perdonarmi se oggi non mi sono sentito del tutto schiacciato dal vostro disprezzo per la mia mancanza di carità o dalle vostre prediche sulla necessità di perdonare mi sembra infatti che voi perdoniate soltanto i peccati che davvero non pensate peccaminosi voi perdonate i criminali quando commettono qualcosa che non considerate come un delitto ma piuttosto come un atto convenzionale così tollerate un duello convenzionale quanto un convenzionale divorzio perdonate perché non c'è nulla da perdonare ma che possa essere impiccato disse Mallo non vi aspetterete che noi possiamo perdonare una cosa vile come questa no disse il prete ma noi sì noi possiamo perdonarla si alzò in piedi bruscamente e si guardò attorno noi dobbiamo toccare questi uomini non con le molle ma con una benedizione disse dobbiamo dir loro la parola che li salverà dall'inferno rimaniamo solo noi per liberarli dalla disperazione quando la vostra carità umana li evita continuate sul vostro sentiero fiorito perdonando tutti i vostri vizi preferiti ed essendo generosi verso i vostri delitti alla moda e lasciateci nelle nostre tenebre vampiri della notte a consolare chi davvero ha bisogno di consolazione chi fa cose davvero indifendibili cose che né il mondo né loro stessi possono difendere e che nessuno tranne un prete saprà perdonare lasciateci con gli uomini che commettono vili ripugnanti e reali delitti vili come San Pietro quando il gallo cantò e tuttavia venne poi l'alba l'alba ripetè Mello dubbiosamente voi parlate di speranza per lui sì ripelicò il prete lasciate che vi faccio una domanda voi siete grandi signori e uomini d'onore sicuri di voi stessi mai così vi dite vi abbandonereste a compiere un atto altrettanto sleale ma ditemi se qualcuno di voi si fosse così abbassato chi tra di voi dopo molti anni ormai vecchio ricco e salvo sarebbe stato portato dalla sua coscienza o dal suo confessore a raccontare un simile fatto di se stesso voi dite che non potreste commettere un delitto così vigliacco ma sapreste confessare un delitto del genere tutti i presenti radurano le loro cose e a piccoli gruppi uscirono in silenzio dalla stanza e padre Brown sempre in silenzio ritorna al triste castello di Marne il segreto di padre Brown capitolo 8 il grande lutto di Marne 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 Grazie a tutti.